Buongiorno dal telegiornale regionale della RAI. Sono in viaggio le due missioni umanitarie partite dalla Sardegna per portare aiuti alla popolazione e offrire ospitalità ai profughi. La Sardegna è pronta a fare la sua parte, dice l'assessore Lampis. Attivate tutte le strutture della protezione civile regionale. Elena Laudante. Partite le carovane per portare nell'isola bambini e profughi ucraini. Ora si apre il fronte della logistica. Lunedì riunione in videoconferenza convocata dal prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao con enti e referenti regionali. Dalla Croce Rossa all'Associazione Comuni, le Forze dell'Ordine, il Tribunale per i Minori, Protezione Civile, enti sanitari e la vicepresidente Alessandra Zedda. Obiettivo coordinare gli arrivi. I primi ad arrivare saranno gli orfani che il gruppo interparlamentare ucraina presieduto da Ugo Capellacci sta andando a prendere. Siamo qui appena sbarcati dalla nave, quindi siamo a Livorno. Stiamo adesso definendo gli ultimi dettagli perché ci hanno dato la posizione, l'ultima, speriamo che non ci siano ulteriori variazioni, del punto di contatto. I piccoli potrebbero arrivare l'8 marzo e avranno bisogno soprattutto di cure alle ferite dell'anima. All'unità di crisi si è già proposta Oksana, psicologa infantile, con la famiglia ancora sotto le bombe. Tanti bambini saranno molto sensibili, diciamo feriti in cuore perché saranno senza genitori o anche quelli che con genitori è lo stesso perché lasciare il suo paese è un grande dolore. Arrivata a Bologna la carovana dell'ANAS che ha l'obiettivo di portare medicinali all'ospedale psichiatrico di Leopoli. E mentre il Ministero della Salute ricorda alle ASLA che i profughi senza Green Pass andranno sottoposti a tampone, i pediatri sardi si mettono a disposizione per assistere i bimbi in fuga dalla guerra.